Stop alle nuove convenzioni finite al centro dell'inchiesta della procura di Arezzo e della Digos che ha travolto Coingas e il comune di Arezzo. Questo quanto emerge dall'ultima assemblea della partecipata pubblica che ha così deciso di passare all'attacco. A diffondere la notizia è stato lo stesso presidente Franco Scortecci tramite un comunicato ufficiale. Dopo aver esaminato i vari punti all'ordine del giorno legati all'ordinaria amministrazione, l'assemblea ha infatti deliberato con l'unica assenzione del comune di Monte San Savino di promuovere un'azione di nullità e o annullabilità delle convenzioni al centro dell'indagine della magistratura. Si tratta delle consulenze considerate assalate dalla procura, affidate al commercialista aretino Marco Cocci e allo studio legale Rason di Firenze per un importo totale di oltre 400.000 euro. In carichi affidati tra il 2017 e il 2018, quando a guidare la partecipata era ancora Sergio Staderini. La promozione di un'azione di nullità si baserebbe sul fatto che questi contratti con i professionisti esterni erano stati stipulati fuori dal regime della legge sugli appalti. L'assemblea ha inoltre votato anche la promozione di azioni giudiziarie eventualmente necessarie al riguardo sottintendendo la possibilità di tutelare la società e di conseguenza i comuni soci. Sull'argomento è intervenuto anche il consigliere comunale Angelo Rossi. Finalmente arriva un segnale di forte discontinuità con la gestione precedente di Coingas e questo è secondo me quello che dovrebbe fare una buona amministrazione e un buon amministratore. Per quanto riguarda me, io dissi esattamente queste cose ai primi di agosto, ricordo sono stato attaccato per l'esa maestà, per aver detto queste esatte cose. In realtà questo è secondo me lo sbocco naturale che dovrebbe avere tutta la vicenda. La bufera Coingas era scoppiata lo scorso 4 luglio. Tra gli indagati erano così finiti anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per abuso d'ufficio e l'assessore al bilancio Alberto Merelli accusato invece di peculato. Indagati per favoreggiamento, poi lo stesso presidente di Coingas Scortecci e il suo predecessore Staderini assieme al presidente di Estra Francesco Macri. Adesso si attendono gli ulteriori sviluppi dell'inchiesta giudiziaria dopo la pausa estiva, in particolar modo il deposito dell'informativa finale della Digosa sul materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni di luglio.